Direttore, io non so se a distanza di 48 ore, poco o meno, è passato più che altro lo stupore per quello che si è visto a fermo da parte vostra. Sì, deve passare in fretta, il più in fretta possibile. Siamo tornati anche ieri mattina proprio per analizzare i tanti errori, ma analizzare anche le cose positive, perché sono state fatte cose molto positive in quel primo tempo. Però dobbiamo sbollire la rabbia e la rabbia deve essere trasformata in determinazione e non in delusione. Sembra quasi che a volte si spenga proprio la luce a tutta la squadra, non ad alcuni elementi. Ci possono essere tanti motivi e noi dobbiamo trovare la soluzione. È inutile stare lì e ogni volta ritirare fuori i problemi del passato, perché se no non ne veniamo fuori. Quello che mi sono messo in testa, conoscendo la realtà, la piazza, è di riportare entusiasmo e non tornare ogni volta indietro negli episodi negativi. Continuerò a farlo con grande volontà, perché questa squadra deve guardare al presente, l'immediato presente e al futuro, perché se no ogni volta riemergono i fantasmi, quindi questo non deve avvenire. Oggi è tornato al campo anche il presidente Campitelli, c'è stato un confronto, ecco che cosa è venuto fuori, qual è stata la reazione del presidente e anche la risposta della squadra a questo punto, se c'è stato. Il presidente è arrivato per caricare la squadra, per dire proprio questo. Gli errori commessi sabato non si devono assolutamente ripetere, perché lui ha grande fiducia in questo organico, perché ha voglia di programmare, ha voglia di voltare pagina, trasmette una carica incredibile e sta facendo grandissimi sacrifici perché vi posso garantire che non è facile rispettare sempre le scadenze senza aver mai preso comunque punti di penalizzazione e tornare al campo dopo sconfitte di questo tipo e tornare per caricare la squadra, quindi la squadra recepisce la vicinanza del presidente e infatti verrà con noi a Salò perché vuole stare vicino alla squadra ed è carico come non mai. L'ultima, sinceramente, c'è un po' di paura di non farcela, salvarsi? Se hai paura non vai da nessuna parte, non puoi affrontare niente nella vita, figuriamoci nel calcio. Ne ho vissute tante nella mia carriera da calciatore, da dirigente e ogni post sconfitta so bene che la delusione deve subito essere superata e pensare alla partita successiva perché c'è sempre, fortunatamente, la possibilità di riprendersi e Salò sarà una di queste possibilità.